Onda Azzurra è la trasmissione di Chi ama il Napoli, l'analisi attenta del percorso del Napoli senza peli sulla lingua. Onda Azzurra è parlare del Napoli con uno sguardo al futuro, senza però mai dimenticare il passato. Onda Azzurra è fotografare il momento del Napoli con un occhio attento a ciò che accade sul web. Onda Azzurra, tutti i venerdì alle 21.30, solo su Giulitalia.